Pronti qua ragazzi, giornata uggiosa e piovosa, quest'oggi siamo a ML 750 e sotto la pioggia siamo arrivati Allora, noi andiamo a preparare adesso uno strudio di verdura che ho creato Il strudio di verdura è fatto di pasta sfoglia e verdura passata con cipolla e aglio passata in tegame con miele e zucchero quindi è un po' caramellata Questa viene accompagnata con una crema di formaggio, una specie di fonduta di formaggio che viene guarnita sopra al piatto che poi andremo a vedere Seguirà due risotti con radicchio speck, che qui ci sono già le basi c'è la cipolla, il radicchio e abbiamo lo speck che poi andiamo a sistemare sulle padelle e viene mantecato con burrata Musica 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 Grazie a tutti. E ragazzi, questa qua non potevamo non assaggiarla perché ci ha fatto anche venire voglia, onestamente. Durante la preparazione è un assaggino. Vai. Con la burrata così che lascia il filo. Tanta roba. Non hai filetti? È mantecato da paura, eh. C'è proprio quella burrattina che ha lasciato il suo... Ricordiamoci il gesto preciso perché... Allora adesso andiamo a preparare lo stinco di vitello stufato alla birra. Noi abbiamo lo stinco sottovuoto. Questo è cotto 12 ore a fuoco lento sottovuoto. Quindi la carne diventa molto morbida e meno grassa. Andiamo a aprirlo sottovuoto. Allora... Algo... non abbiamo la preparazione di questo piatto ci è stata fatta una sorpresa e ci è arrivato questo piatto così partiamo subito da un calice di crudo san daniele con burrata campana un carpaccio di carne salada con pesto di rucola e qua abbiamo un strudel di verdure con fonduta di formaggi notiamo anche il cestino con i grissini fatti sono buoni, questo possiamo assicurarvelo approvato ragazzi qua ovviamente per buttare giù il tutto bene bene ragazzi dopo di questo faremo una bella tagliata a Robespierre ho messo io questo nome perché mi piace vedrete poi come viene creata e se la mangiamo i grissini i cidiali finita lo strudel con la in cucina combattono intanto proseguiamo con carpaccio di carne salada con una base di rucola e pesto di rucola intanto inizio a spodestare la base per chi piace il classico di questa unione c'è qua verso il sicuro non si sta neanche a dire com'è perché la sicurezza adesso noi andiamo a fare la tagliata Robespierre dove qua abbiamo la carne e noi nostra sotto vuoto abbiamo fatto pane grattugiato rosmarino mais peppe e sale ok adesso mangiamo questo secondo piatto la tagliata in compagnia un saluto alla telecamera grazie a tutti